Eccoci ancora una volta insieme per proseguire il nostro viaggio nell'arte contemporanea. Oggi parleremo di Luigi Veronesi, uno degli artisti italiani più ecstatici del Novecento. Nato a Milano nel 1908, inizia l'attività artistica come grafico e contemporaneamente si interessa di fotografia. Nel 1932, alla Galleria del Milione di Milano, viene ospitata la sua prima personale di incisioni sul legno. Nello stesso anno Veronesi va a Parigi ed intreccia rapporti molto stretti con pittori d'avanguardia come Leger ed esponenti del Bauhaus come Moolinagy. Nel 1949 entra a far parte del MAC, Movimento Arte Concrata. Inizia così la sua sperimentazione, rivolta per lo più verso la fotografia astratta, con fotomontaggi, pitture su pellicole e solarizzazioni, e verso le scenografie teatrali, per ricordare la sua collaborazione col Teatro alla Scala di Milano. Insegnante di composizione, teoria e scienza di colori all'Accademia di Brera, dagli anni Settanta riceveva l'onore delle prime retrospettive, e nel 1986 la Biennale di Venezia li radica una personale. Muore a Milano nel 1998. Nel 1930 a Venezia si fece una Biennale un po' diversa dalle precedenti, era la prima Biennale fascista. Ecco Luigi Veronesi, che era super giù della mia età, io l'ho incontrato a questa Biennale, e lui lì ha visto i primi quadri astratti, che ho visto anch'io, Kandinsky e Klee. Le prime opere che erano esposte dai tedeschi, nel loro padiglione, c'erano le cose astratti, di Kandinsky e di Klee. Ecco è partita da lì una modificazione dell'arte di Veronesi, da figurativa in astratti, e da lì è partita la sua ricerca. Il suo astrattismo fu sempre un astrattismo rigoroso, diciamo così, un astrattismo geometrico, no? Poi dopo si capisce che lui la sua attività la svolse su terreni diversi, dico su tessuti diversi, su carte diverse, su stampe, sul teatro, come via. Era un uomo straordinario, di grande dolcezza e di grande bontà. Lui pensava proprio che con questa arte, con questa arte astratti, faceva l'arte di una società. futuribile, di una società che doveva venire, di una società socialista perfetta sotto tutti gli aspetti e che quindi aveva bisogno anche di un'arte che rappresentasse l'esattezza, la correttezza, il rispetto, l'amore tra gli uni e gli altri. Un uomo generoso, un uomo aperto, legato molto all'arte, allo specifico dell'arte, sperimentatore, immune da pericoli idealistici, legato proprio alla concretezza del fare e però molto attento anche all'aspetto sociale, politicamente sempre impegnato. Non è mai caduto in quel pericolo in cui sono caduti molti artisti impegnati che è stato il realismo ideologico, il realismo di propaganda, il realismo di diffusione. Ha fatto qualcosa anche lui, ma in un settore un po' particolare, che è il settore della grafica. Ha fatto copertine per Feltrinelli, per altre case editrici nel dopoguerra ed evidentemente lì c'era un messaggio più diretto, legato a queste cose. Il suo impegno sociale lo portava a pensare all'utilità della pittura. Stiamo qui riprendendo nell'Università Cattolica di Milano, dove lui è venuto più volte e dove una volta un ragazzo gli ha proprio chiesto, maestro, che cosa serve la sua arte, che utilità ha la sua arte all'uomo, alla società. E lui ha risposto in un modo che può sembrare banale, ma che era lui, porto della bellezza. Io voglio dare gioia e bellezza. Questo è un qualcosa di riduttivo, potrebbe sembrare, invece è tutt'altro che riduttivo perché è proprio legato a un modo di fare pittura che invece è molto, stavo per dire all'avanguardia, ma è un termine che non va nemmeno tanto bene, è molto su un piano innovativo e appunto sperimentale. La sua opera è un'opera interessante, anche se sottovalutata. Poi evidentemente lui non è stato favorito dalle sue idee politiche, però lui visse sempre modestamente, in maniera parca, disegnando stoffe, specialmente disegnando stoffe, però ha fatto a fianco un lavoro più serio, più importante, che era il lavoro per il teatro. Per il teatro ha disegnato molti scenografie, molti teatrini, molti costumi. Su questi costumi sono state poi scritte tante cose perché effettivamente la piccola scava, che ha presentato molti di questi spettacoli, si giovavano, si avvantaggiava di queste messe in sene, queste scenografie scelte da Luigi Ferronesi. Perché anche nel teatro c'erano tutte queste mutazioni, questi cambiamenti, quindi anche il teatro aveva le sue esigenze e quindi non poteva essere una cosa stata separata. Poi sentire come la musica, come tutto stava cambiando, così anche la scenografia è cambiata di molto. Ecco è, Ferronesi è stato uno degli interpreti italiani più eminenti di questo settore. Lui ha avuto una fantasia molto ricca e ha riuscito ad applicare anche al gioco, alle marionette, a tutte le cose, queste sue attitudini, queste sue bellezze, queste sue capacità di rendere l'orco orribile, la fata, la bella, bellissima, eccetera, il borghese con la pancia, eccetera, 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 insomma aveva questa possibilità di rendere attraverso l'opera i suoi sentimenti e di farlo intuire, capire chiaramente anche i suoi ammiratori. Fu un grande ricercatore nel campo della fotografia, in quel momento si fecero molte esperienze, i veronesi provavano queste esperienze della solarizzazione, per esempio perdeva una carta sensibile, sulla carta sensibile, tanto per dare un'idea, appoggiava un ingranaggio al buio, poi accendeva di colpo una forte luce e la spegneva. Allora rimaneva impressa la figura, l'immagine, rimaneva impressa nella carta e poteva avere le terminalità che tu avevi scelto. Insomma, queste ricerche sono state fatte a fondo e io le ho tratto in maniera superficiale, questa però ha costituito degli studi molto seri, lui ha partecipato fra le avanguardie della ricerca in questo settore. Non è solo lui che ha fatto questi tentativi di fare la musica a colori, no? E di prendere e studiare, questi sono, per mio conto, studi dove uno ha perso il tempo senza trovare, non lui, ma quelli che hanno fatto quelle ricerche non hanno trovato una risposta adeguata all'impegno che loro avevano messo per trasformare, trasferire il suono nell'immagine o nel colore. E lui ha fatto dei pezzi che sono belli pittoricamente, al di là del fatto che tu li vogli considerare come pezzo di riproduzione musicale, sono belli da vedere. Quindi con la pittura, con la sua precisione, con la sua regolatezza, riuscire a rappresentare, a rappresentare anche la musica e dare anche l'idea, a chi conosce profondamente il pezzo, le variazioni, eccetera, eccetera, di notarli, di scoprirli. Lui veniva in villeggiatura, sempre a San Cassiano, dove si trovava molto bene. Io una volta sono andato a trovarlo a San Cassiano e lui stava rientrando in un albergo, tu con i segnacci neri in faccia. Ma cosa hai fatto? Ho fatto l'indiano con i bambini. Lui aveva così uno spirito, pure essendo un uomo anziano, ma aveva uno spirito, una sensibilità giovanile e giocava con tutti, con gli altri ospiti, con i bambini degli ospiti, andavano alle boscole, una giornata alla settimana che era dedicata a questi camuffamenti, travestiva e con i toraccioli bruciati si dipingeva la faccia e dimostrava il suo piacere ed amore per il teatro, diventando attore lui stesso. Lui era un uomo molto dolce e poi era capace di spiegare, di dare ragione agli altri di quello che lui faceva. Perché se lui faceva un quadro astratto, poi non diceva che è quello, no? No, ma lui aveva un parlare semplice, frasi chiare, concetti precisi, e quindi avvicinava i giovani, avvicinava i giovani. I giovani lo adoravano, gli volevano molto bene. Lui è stato anche insegnante, come insegnante, ha avuto un grande successo perché riusciva a entrare dentro nello spirito di questi giovani, dei quali si sentiva amico, come essi stessi si sentivano amici di lui. Un uomo che io ho stimato molto, che ancora oggi stimo molto, è per le sue capacità artistiche, per la sua cultura, per la sua intelligenza. È stato un grande artista, un ottimo artista che, seguendo questa via della pittura astratta, ha fatto dei capolavori. Cosa vedi in quest'opera? Mi sembra un miscuglio tra natura e artificiale. Mi ricorda il mare, il cielo e un posto come Sidney. Qui mi vedo io. Questo sono io. E tutto il resto è il mondo. Sto guardando dall'alto. Sono io, il meron diverso e che guarda. Personalmente penso che in un bel salone, all'ingresso, farebbe sempre una bella figura perché colpisce l'occhio. E' bello questo quadro, ha un bel significato e complemento. Il cerchio generale della mia vita. E dopo ognuno cerchi di miei amori, cerchi di incontri passionali, molto più passionali di meno questo piccolo. E poi blu, un po' di rosa, non c'è niente. Di là siamo solo spirito, niente, niente altro. Questo è quello che penso io di questo quadro. Il Comitato Luigi Veronesi di Milano è impegnato nell'organizzazione e catalogazione della vasta ed eclettica produzione dell'artista. In mancanza di un'esposizione permanente, alcune opere di Veronesi possono essere ammirate presso la Galleria Civica d'Arte Moderna di Torino, il Centro di Storia d'Arte Contemporanea di Parma e il Mar di Trento e Rovereto. In provincia di Bolzano, a San Cassiano, sono presenti murali che decorano le sale di alcuni alberghi in cui l'artista amava suo giornale d'estate. Arrivederci alla prossima puntata del nostro viaggio attraverso l'arte contemporanea. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.